Antonio Daveni, consigliere comunale dell'Udc e presidente in questo momento della commissione consigliare speciale istituita sull'ASM. Antonio, con te parliamo proprio dell'azienda Servizi Municipalizzati. Cosa sta avvenendo negli uffici dell'Umbi? C'è tanto da dire? Allora, come tutti sapete, da circa 40 giorni si è insediata questa commissione, che io prendo l'onore di essere il presidente, e che stiamo lavorando in maniera assidua e che stiamo facendo un lavoro certosino per cercare di presentare all'atto della relazione del presidente della commissione, di presentare una relazione e di preparare un atto di indirizzo integrando quello che già è stato fatto in passato dal Consiglio Comunale. Poi in questi giorni abbiamo trattato l'argomento sul collegamento tra l'Umbi e Fontana Vecchia, che è un nodo ancora irrisolto dell'ASM e che la cittadinanza non vede l'ora di poter utilizzare. Altro punto che stiamo trattando e cercheremo di risolvere è quello della nomina del Direttore Generale, infatti ancora, quanto pare, non è stato espletato il bando per la nomina del Direttore Generale. Quindi stiamo lavorando, stiamo completando l'incarico dato al Consiglio Comunale e sicuramente daremo un atto di indirizzo importante per risolvere il problema dell'ASM.